Emanuele Caserio Mi chiamo Emanuele Caserio, sono un attore di cinema e tv e quello che sto per raccontare è dell'incredibile. Avevo bisogno di staccare un po' la spina prima di ricominciare la mia vita sul set e quindi ho deciso di andare in vacanza in Puglia, in una delle regioni più belle del mondo. Sono stato a Monopoli, tra il mare, il cibo, la calda ospitalità. Ma quello che ha reso il mio viaggio unico sono stati i miei risveglie. Quinto giorno mi sono girato, sperando che ci fosse qualcuno, ma non c'era nessuno. Pensai che fossi venita qui? Il bello deve ancora arrivare. C'era Franco, con le chiavi in mano. Emanuele, ci sarà una sorpresa per te stasera, eh? Ah sì? Sì. Con Franco siamo andati a scoprire i dintorni di Monopoli. Adesso ti porto a scoprire la costa dei Trulli. Monopoli è una zona strategica per visitare sia il mare e la collina. Siamo vicino ad Alberobello. E a tanti paesini pieni di magia e di storia. La mia sorpresa? Emanuele, la città di Monopoli ti nomina cittadino monopolitano. Tutte le persone che ho conosciuto mi hanno fatto un regalo bellissimo. A un certo punto abbiamo iniziato a ballare tutti quanti insieme come se ci conoscessimo da una vita. Emanuele, la città di Monopoli Emanuele, la città di Monopoli Quindi le orecchiette con le cime di Rafa a un certo punto sono arrivate. Era la prima volta che le assaggiavo. Devo dire, erano buonissime. Ecco, secondo me la Puglia è il posto dove ci si può innamorare, si può essere felici e si può star bene. Perché Monopoli ti fa sentire a casa. Vabbè, allora io vado. Uno, alzare! Che ha detto? Un volo per zirta. Vado, lo posso? Vado, 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 vado. Vado, 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 vado. Noi, siamo arrivati al castello di Carlo Quinto, sul lungo terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.